Bentornati cari amici bentornati sul canale Sandro Cicali Free Energy oggi andiamo a parlare di batterie d'accumulo un modello di batterie d'accumulo che conoscete ormai da tempo sul canale Sandro Cicali Free Energy un modello che ha ridimensionato un po' anche i prezzi ovviamente nei limiti sono stati ribassati un po' i prezzi giusto per agevolare anche la vendita di questi kit fotovoltaici completi per chi ovviamente non ha dimistichezza nell'auto assemblare una batteria fai da te e quindi andiamo a cercare prodotti che abbiano ovviamente una caratteristica che sia più facile da utilizzare più facile da movimentare più facile da trasportare e soprattutto con consegne assistenza e garanzia garantiti dall'azienda penso che abbiate intuito di cosa stiamo parlando quindi sigla ed iniziamo il video quindi il prodotto di cui stiamo parlando è questo qua sono le fatidiche e le fantastiche batterie della IFG è la prima azienda che contattò questo canale quando presentarono questo prodotto ed è stata per me una grandissima soddisfazione perché ne sono state vendute veramente tante di queste batterie in tutta Europa ma non solo in Europa l'azienda si è dimostrata estremamente seria un'azienda veramente solidissima e molto seria ma soprattutto abbiamo avuto e abbiamo tuttora un prodotto di altissima qualità come possiamo vedere anche negli spezzoni video di presentazione che ormai sono presenti sul canale da diverso tempo queste batterie hanno avuto veramente un grande successo tante persone mi hanno sempre chiesto ma possibile che il prezzo sia così alto beh il prezzo non è poi così alto rispetto al prezzo lancio che fu appunto di tre anni fa era un prezzo molto più alto poi via via un po tutte le case di produzione di batterie hanno abbassato i prezzi anche la IFG ha abbassato i prezzi e ha fatto un ulteriore sconto quindi una batteria come esattamente questa da 5 kilowattora una batteria rack adesso con meno di 1200 euro riusciamo a portarcelo a casa anche perché sempre legata al canale Sandro Cicali Free Energy abbiamo degli sconti abbiamo delle agevolazioni quindi non solo il prezzo è calato già di listino ma viene ulteriormente calato se andiamo ad acquistarla con gli sconti che sono presenti sotto nelle descrizioni ovviamente il prezzo cala ancora se andiamo ad acquistare più di una batteria quindi molto spesso gli accumuli medi sono di 10 o di 15 kilowattora e quindi andiamo ad acquistarne due oppure tre in questo caso qui abbiamo 10 kilowattora che sono l'accumulo che utilizzo io nella mia abitazione sono più che sufficienti per i nostri consumi è ovvio ogni impianto è rapportato ai propri consumi il mio impianto non è un impianto molto prestante non abbiamo grandi produzioni fotovoltaiche perché come ben sapete abbiamo un giardino abbiamo delle ombre abbiamo degli alberi e non abbiamo quindi una totale esposizione anche se lo spazio è grande ma è delimitato da delle piante molto alte che alle prime ore della mattina e durante poi le ultime ore della giornata determinano delle ombre sul sulla stringa che ovviamente le impediscono di fare una totale produzione nell'arco della giornata quindi abbiamo poche ore utili di produzione e quindi 10 kilowattora per i nostri consumi per arrivare al giorno dopo sono sufficienti solitamente in inverno con giornate piovose andiamo a staccarci dalla rete dopo il secondo giorno quindi una volta consumate tutte queste batterie e infatti come potete vedere siamo al minimo dell'accumulo perché perché sono diversi giorni che sta piovendo quando arriva uno spiraglio di sole le batterie si riconnettono all'impianto lavorano si ricaricano e poi ovviamente durante la notte si riscaricano questa è una considerazione che io faccio con l'esperienza queste sono macchine che hanno sempre funzionato bene vi ho fatto vedere tanti test che sono stati fatti sul canale di queste batterie tanti raffronti tante delucidazioni tante spiegazioni di come si installano di come si manutengono perché perché abbiamo anche una situazione di mantenimento delle batterie perché dopo un certo tot di tempo andiamo a vedere quello che realmente è la batteria e se andiamo a contare non il soc ma il soc con la h in fondo cioè lo stato di salute delle batterie beh considerando che questa è stata la prima batteria arrivata ed è il terzo anno che è accesa 24 ore su 24 il suo soc attuale è ancora al 100% quindi dopo tre anni abbiamo ancora il 100% della capacità della batteria questo anche agevolato dal fatto che queste batterie qua non fanno mai un ciclo al giorno notoriamente le litio ferrofosfato e qui abbiamo celle della ivi da 100 ampere sono calcolate in circa 5.000 6.000 cicli beh nell'arco di questi 5.000 6.000 cicli alla fine di questi cicli le batterie avranno un rendimento mediamente dell 80 per cento non più del 100 per cento quindi quello s o h quel soc che abbiamo determinato prima non sarà più 100 per cento ma sarà 80 per cento bene dopo tre anni queste batterie hanno lavorato e questa batteria qua non ha ancora raggiunto i 300 cicli dopo tre anni che notoriamente se dovessimo aver fatto un ciclo al giorno dovremmo averne fatti già più di mille ma in realtà ne abbiamo fatti neanche 300 perché perché la batteria non è mai stata scaricata del tutto e non è mai arrivata a fare un ciclo completo perché magari quando arrivava ad essere piena iniziava già il consumo della sera e quindi riscendeva quindi è sempre rimasta in un range di funzionamento che le ha permesso sì di contare i cicli perché i cicli vengono contati ma vengono contati nell'utilizzo completo quindi dal 7 8 10 per cento fino al 100 per cento e poi di nuovamente fino al 10 per cento quello è il ciclo cosa che queste batterie hanno fatto raramente nel corso del tempo anche la seconda batteria che è arrivata in un secondo momento quindi a distanza di un anno e mezzo non ha ancora raggiunto i 100 cicli quindi questo video per cosa per andare nuovamente a parlare di questo prodotto un prodotto di alta qualità un prodotto che vi offre assistenza un prodotto che vi offre affidabilità nel tempo questo lo dico non solo per promuovere un prodotto che secondo il mio giudizio e secondo tanti di voi che ce l'hanno già è un prodotto di alta qualità ma soprattutto per raccontare l'esperienza che io sto affrontando dal primo giorno di installazione di queste batterie perché perché con questa esperienza io sono in grado di dirvi nell'arco di qualche anno se il prodotto è affidabile oppure non è affidabile qualsiasi problema che è capitato e ovviamente non al sottoscritto ma ad altre persone ma cose veramente insignificanti sono state risolte immediatamente dall'azienda e sappiate bene qui abbiamo un prodotto che è già pronto quindi le sue garanzie sono del prodotto completo e funzionante se abbiamo un difetto loro ce lo cambiano loro ci assistono la batteria fai da te ha un costo nettamente inferiore però abbiamo la garanzia sui prodotti che ci vengono dati una volta che noi ci mettiamo le mani ed andiamo a montarla la responsabilità è nostra quindi se sbagliamo un collegamento se sbagliamo una programmazione di queste batterie fai da te l'azienda non ci può riconoscere una garanzia perché perché l'azienda garantisce che il prodotto che ti arriva a casa funziona al cento per cento se poi viene manomesso e ovviamente andando a costruirla la batteria in un fai da te andiamo diciamo a manomettere quello che è il prodotto arrivato di fabbrica e quindi andiamo a montarlo seguendo tutte le istruzioni ma può capitare di sbagliare sbagliando la garanzia di quelle batterie li ovviamente può decadere potrebbe avere dei problemi ci potrebbero essere dei problemi appunto per quanto riguarda il danneggiamento di una cella il danneggiamento delle bms qualsiasi problema in questo caso qui no alcuni diranno beh costano un po di più sì in effetti costano un po di più ma è ovvio questo questo costo maggiore determina l'assistenza la qualità e anche la velocità di consegna perché queste batterie nell'arco di 45 giorni vengono consegnate a casa finite le prendiamo le movimentiamo perché pesano circa 50 kg quindi riusciamo a movimentarle facilmente le colleghiamo accendiamo il tutto e la batteria è già funzionante potete vedere anche tutte le recensioni di clienti ovviamente sul canale ma anche sul sito della IFG abbiamo tante recensioni di persone che le hanno acquistate si stanno trovando benissimo nell'arco degli anni quindi questo è il prodotto ovviamente principale che io ho sempre sponsorizzato e ho sempre dedicato del tempo per far conoscere e far acquistare queste batterie qua non le vendo io direttamente io non sono un venditore però ovviamente se il prodotto ne vale la pena cerco di consigliarlo perché perché è un prodotto che ne può valere la pena se fosse un prodotto di bassa qualità non lo avrei neanche fatto mai vedere o perlomeno non lo avrei pubblicizzato e sponsorizzato con questo diciamo entusiasmo che ho sempre messo nella presentazione di questi prodotti quindi grazie alla mia esperienza e grazie all'esperienza di tanti di voi le IFG stanno andando alla grande e fanno parte dei kit quindi nei kit fotovoltaici possiamo opzionare queste batterie qua quindi se avete bisogno di ordinarle nelle descrizioni sotto il video c'è scritto tutto ci sono i codici ci sono i codici sconto ci sono i link di ogni prodotto ci sono le mail ad esempio se dovete ordinare un kit da 8 kilowatt andate a scegliere ovviamente la porzione di link che vi va a richiamare su quel kit mandate una mail sotto la mail del sito e specificate il codice che vi ho scritto sotto nelle descrizioni quel kit vi arriverà senza batterie se vorrete appunto acquistare le batterie della IFG ci saranno sempre nell'elenco di tutte le descrizioni i codici per entrare sul sito della IFG contattare direttamente l'azienda e applicare il codice sconto affiliato sempre a questo canale che vi permette di avere un ulteriore sconto sulle batterie vi risponderà ovviamente il responsabile eric che è la persona che segue sempre tutto quello che è la compravendita e l'assistenza di queste batterie quindi siete coperti a 360 gradi tutto questo ci serve per maturare l'esperienza tutto questo ci serve per realizzare il nostro impianto fotovoltaico fai da te con i kit e con le batterie già pronte quindi con queste batterie qua cadete in piedi perché se non avete diciamo la dimistichezza se non volete avere responsabilità nell'andare ad acquistare una batteria da montare andate ad acquistare questo prodotto lo pagate qualcosa in più ma avete tanta tanta garanzia in più e tanta assistenza in più ovviamente non c'è solo questo prodotto ci sono anche i prodotti da parete le famose batterie da parete che sono la serie lunga e la serie più larga ma hanno tutte lo stesso identico bms hanno tutte le stesse identiche celle da 100 ampere sono tutti i tagli da 5 kilowattora sono tutte uguali la ifg fa solo tre tipologie di batterie tutte tre identiche con le stesse identiche capacità e potenzialità cambia solamente la forma vogliamo quella rack la prendiamo rack vogliamo quella da parete perché non abbiamo gli spazi prendiamo quella da parete le uniche differenze diciamo sono a livello di estetica per il resto la macchina è identica le macchine sono identiche i funzionamenti sono gli stessi le programmazioni sono le stesse non cambia assolutamente niente quindi cosa dirvi di più vi ringrazio per aver seguito anche questa diciamo spiegazione in più per andare ad assiemare il vostro kit con le batterie della ifg e come sempre like e condividi iscrivetevi al canale l'iscrizione non vi costa niente non vi cambia la vita ma cambia la vita a questo canale con gli fg col sole a darci carica non c'è confusione sandro cicali sei la nostra ispirazione con i tuoi video cambia la nostra visione iscriviti al canale